Anticipo della quarta giornata di eccellenza, alla città di Meda i bianconeri di Giovanni Cairoli ospitano l'FC milanese a loro volta novità nella girone A di eccellenza. Pronti via e da una palla persa a metà campo arriva la prima occasione per gli ospiti dopo 35 secondi di gioco. Checchi gestisce la ripartenza e apre sulla destra per vai, tiro potente del numero 9, servono i guantoni di Chierico per mettere in corner. Prividere azione dopo una girata di brighenti respinta dalla difesa arriva l'occasionissima per passare ma il palo dice no alla conclusione da fuori area di Valtulina. Meda non certo fortunato in questo avvio di campionato, dall'altra parte Checchi prova l'acrobazia, bella ma inutile visto il fuorigioco. È comunque il preludio al gol, minuto 22, altra palla persa velenosa in mezzo al campo, Ruscito gestisce il contropiede in maniera magistrale e apre sulla sinistra per Checchi che non sbaglia, solo davanti a Chierico esulta il numero 11 che si sblocca trovando così il primo gol in campionato di questa stagione. Il Meda è sotto ma due occasioni nettissime per pareggiare. Brighenti si divora così l'uno a uno sparando alto a tu per tu col portiere, poi Molteni di testa va praticamente a colpo sicuro sul cross dalla destra ma non inquadra lo specchio della porta. I cross di Martino sono pericolosi ma non sfruttati dai compagni come in questa occasione. Dall'altra parte Chierico è super sull'uscito ancora una volta per un offside. 0-1 all'intervallo con le immagini allora andiamo nella ripresa da un pallone messo dentro dalla destra e liberato dalla difesa ospite. Prova una conclusione velenosa Bianchi ma il tiro cross del numero 3 non sorprende Todesco. Meda tutto in avanti, FC milanese che sguazza negli spazi, ripartenza letale con riuscito che va alla conclusione. Chierico ci mette una pezza, poi alta la bandierina sul tapin di trovato. Chierico ancora chiamato in causa sul tiro di riuscito al volo, bella l'esecuzione, bella la parata dal successivo corner, colpo di testa di Calloni, alto di un nulla. La milanese non la chiude, il Meda a questo punto ci crede, azione sulla destra e palla messa in mezzo ma Brighenti e Filomeno non riescono a concludere verso lo specchio della porta. Minuto 39 della ripresa, secondo giallo per Ferraroli e Meda che resta così in dieci uomini nel finale di partita. Di fatto Everest da scalare per i Brianzoli ma dopo la giocata in acrobazia di Checchi, fuori non di molto, arriva l'occasione con la punizione di Filomeno, pericolosa ma il pallone si stampa sulla barriera. La chance più nitida nel finale quindi è per gli ospiti in ripartenza ma Sorrenti manda lato e manca così il gol del 2-0 in pieno recupero. L'FC milanese esulta comunque per una vittoria importantissima, il Meda invece in K nella terza sconfitta in campionato.